Il rischio di affogare è concreto anche perché in pochi sanno nuotare. Le sanzioni partono da 500 euro ma nonostante tutto in troppi sfidano il divieto di balneazione e si tuffano nelle acque gelide dei nostri fiumi. Secondo alcuni medici dell'ospedale Morelli di Sondalo che denunciano una serie di casi che hanno messo a rischio la vita dei pazienti la paralisi delle attività sarebbe vicina. Nessun commento da parte della dirigenza di ASST. Il confronto con il personale sanitario dicono è costante ma si fa nelle sedi opportune. 1528 i positivi in provincia di Sondrio oggi avvio di quella che si preannuncia come la settimana del picco. Intanto via libera la quarta dose di vaccino anche per le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni. Gli interessati in valle sono più di 42 mila. Un saluto ai telespettatori e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Nonostante il rischio di affogare sia concreto anche perché davvero in pochi dalle nostre parti sanno nuotare e le sanzioni partano da 500 euro in troppi sfidano il divieto di balneazione si tuffano nelle acque dei nostri fiumi. Giuliano Padroni. Sì è vero è estate fa caldo il mare è lontano e le acque dei corsi d'acqua che circondano la nostra provincia invitano al refrigerio anche perché il livello del fiume Hadda causa l'emergenza idrica è notevolmente sceso ingannando circa la propria pericolosità. E allora è bene ricordare che solo durante il fine settimana appena trascorso in Lombardia sono stati due i giovani che hanno perso la vita per un foinacque dove era vietata la balneazione. A Parabiago nel milanese dove è morto un tredicenne è rimasto incastrato in una grata del canale Villoresi. La stessa sorte è toccata ad un quindicenne morto in seguito ad un malore mentre nuotava nelle acque del lago maggiore. Qui dalle nostre parti purtroppo non mancano i casi di annegamento e di infortuni anche gravi dovuti alla pericolosità di queste acque o ad azzardi inconsapevoli. Ma nonostante tutto questo è quello che accade sulle sponde del mallero e tra le conche dell'Adda. A pochi metri da quei cartelli che laconicamente riportano divieto di balneazione. E pensate in Italia la strage silenziosa degli annegamenti si porta via a 400 persone all'anno molte delle quali giovani come quelli che vediamo in queste immagini. Purtroppo ancora è invalsa questa pessima abitudine soprattutto da parte dei ragazzi di accedere alle acque. Anche in questo ultimo fine settimana abbiamo dovuto presidiare la zona, mandare la pattuglia perché sono stati segnalati tutta una serie di episodi. Quindi colgo davvero l'occasione per ribadire il divieto assoluto di balneazione. È un'attività pericolosa perché i torrenti d'acqua possono presentare delle insidie evidenti, sia a volte anche per il disvalore termico tra la temperatura esterna e quella delle acque. E quindi davvero è necessario prendere consapevolezza di questo divieto e assumere dei comportamenti virtuosi. Al di là delle sanzioni, insomma, sono condotte che davvero possono avere conseguenze tragiche. Ha parlato di sanzioni, possiamo ricordare anche a cosa si va incontro qualora si continui a violare questo divieto? Sono 500 euro di sanzioni, ma possono sussistere anche violazioni di indole penale. Mi viene in mente il procurato allarme per garantire gli interventi delle forze di soccorso. E quindi è davvero necessario che tutti maturiamo questo convincimento. E allora pensiamoci prima di tuffarci. E ora parliamo di un post comparso ieri sulla pagina Facebook di Ezio Trabucchi, presidente del Movimento Popolare Rinascita Morelli Autonomo. Si tratta di un post decisamente allarmante perché riporta delle segnalazioni che arriverebbero direttamente da alcuni medici, stimati professionisti dell'ospedale Morelli, i quali stimano che per quest'autunno, dunque tra pochissimi mesi, si arriverà a quella che definiscono la caduta finale del Morelli. Non una chiusura, ma di fatto una paralisi dell'attività. Sentiamo. In questi mesi ci sono stati dei morti e purtroppo ce ne saranno ancora. Non è terrorismo mediatico. È la stessa constatazione amara che oggi sono gli stessi medici del Morelli ad evidenziare. Le segnalazioni sono anonime, ma arriverebbero da dentro il Morelli, da chi dentro il Morelli lavora. A renderle pubbliche ci ha pensato Ezio Trabucchi, presidente del Movimento Popolare Rinascita Morelli Autonomo, con un post decisamente più allarmante delle decine e decine che in questi anni ha dedicato alle sorti dell'ospedale di Sondalo. Più allarmante perché si facendo quella che viene definita addirittura caduta finale del Morelli, con tanto di data prevista, settembre-ottobre 2022. Tra pochissimi mesi, insomma. Oggi i medici confermano purtroppo la nostra diagnosi. Sono loro, ripeto, che evidenziando peraltro casi gravi che stanno succedendo, che sono successi e stanno succedendo al Morelli, ci parlano di una chiusura intesa come caduta finale di questo grande ospedale. Le segnalazioni ricevute dai medici cui Trabucchi accenna nel post di ieri parlano di casi gravi, in alcuni dei quali è veramente a rischio la vita del paziente. Si va da un caso emorragico rimasto in pronto soccorso 6-7 ore, praticamente ignorato e preso per i capelli in camera operatoria, testuali parole, alla disavventura di una paziente residente a Sondalo colpita da trombosi venosa cerebrale lo scorso 20 giugno. Al domicilio della paziente giunge dal vicino ospedale di Sondalo un'ambulanza, la quale in pochi minuti potrebbe condurla allo stesso Morelli. Questo è il racconto di un medico che Trabucchi ha poi pubblicato nel proprio post. Dalla centrale operativa di Bergamo viene però impartita la disposizione di trasporto diretto al pronto soccorso di Sondrio. Successivamente la paziente da Sondrio viene nuovamente caricata in ambulanza e trasferita al Morelli perché l'ospedale del capoluogo non è nella condizione di intervenire. All'arrivo a Sondalo il quadro neurologico è peggiorato e occorre operare immediatamente. Noi l'abbiamo denunciato da diverso tempo questo stato di cose, abbiamo parlato di un Morelli agonizzante, di un Morelli all'ultimo stadio e oggi si pone un problema molto importante per le nostre comunità, per i nostri cittadini che vedono, salvo un miracolo, venire meno un grande ospedale, un grande ospedale che garantiva eccellenze, garantiva un'assistenza sanitaria all'ospedaliera adeguata. Trabucchi come sempre non le manda a dire, punta il dito contro la Regione e il suo piano del Politecnico di fine 2019. L'obiettivo è portare l'assistenza ospedaliera nei grossi centri urbani, in particolare a Milano. Questo è l'obiettivo di Regione Lombardia, devono sparire gli ospedali periferici. Nessuno andrà a chiudere con le chiavi in Morelli, rimarrà poco più di un poliambulatorio, ma il grande ospedale che abbiamo conosciuto fino al 2019 con le sue eccellenze, con l'unità spinale unipolare tra le migliori d'Italia, con il Dipartimento di Emergenza e l'Ugenza di secondo livello che pochi ospedali in Lombardia hanno, ecco tutto questo, l'ospedale Morelli che abbiamo conosciuto è sparito. Sebbene interpellata, la dirigenza di ASST non ha ritenuto di replicare, in primis perché le presunte segnalazioni cui facendo trabucchi sono anonime. Il confronto con il personale sanitario è costante, si limitano a dire e avviene nelle sedi opportune. Sono ad oggi, anche se si tratta di un numero di molto inferiore agli effettivi contagiati, 1.528 i positivi in provincia di Sondrio. E questa che si preannuncia come la settimana che vedrà il picco di questa ennesima ondata di Covid, ha preso avvio anche con il Via Libera da parte del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie e dell'Agenzia Europea del Farmaco, alla quarta dose di vaccino anche per le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni. I Valtellini e Valchiaven, gli interessati che hanno ricevuto la terza dose e che dunque potranno prenotare la quarta, sono 42.379. Vediamo. Dovrebbe essere quella iniziata proprio oggi, la settimana che vedrà il picco di contagi di questa nuova ondata di Covid attualmente in corso in tutta Europa con tassi crescenti di recovery in ospedale e in terapia intensiva. Un'ondata che sta investendo anche la provincia di Sondrio con 1.528 positivi alle 23.59 di ieri. Numeri peraltro del tutto indicativi e che si potrebbero senza timore di essere smentiti anche moltiplicare per due o per tre, poiché in molti essendo asintomatici o paucisintomatici non si sono sottoposti a tampone, favorendo così l'incremento della diffusione di questa innesima e contagiosissima variante del virus. La novità è comunque che, come previsto, da stamane c'è il Via Libera del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ECDC, e dell'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, che in una dichiarazione congiunta raccomandano anche alle persone tra i 60 e i 79 anni di procedere a una quarta dose vaccinale. Questione di giorni, non appena Regione Lombardia inserirà nel portale anche la quarta dose, si comincerà anche da noi dunque. In Valtellina e Valchiavenna, gli interessati tra i 60 e i 79 anni che hanno ricevuto la terza dose e che dunque potranno prenotare la quarta, sono 42.379. Sono invece 15.086, gli ovvero 80 di questi, ad oggi soltanto il 24%, ha provveduto a farsi vaccinare per la quarta volta contro il Covid. Non è escluso che l'aumento dei contagi a cui stiamo assistendo convincerà anche chi ancora non si è prenotato a non aspettare ulteriormente. Si ricorda che nei mesi di luglio e agosto sono state introdotte alcune modifiche nel calendario della campagna vaccinale anti-Covid. Per la Valchiavenna bisognerà rivolgersi alla farmacia Corti di Novate o alla Pighetti di Nuovo Olonio. Per la zona di Morvegno alle farmacie comunali di Civo, di Dubino e alla Mazzocchi di Morvegno. Per il Sondriese il sabato mattina è al centro vaccinale del Policampus e alla farmacia Gusmeroli di Montagna in Valtellina. Mentre per le zone di Tirano, Sondalo e Bormio il punto di riferimento una volta alla settimana, in questo caso il mercoledì pomeriggio, sarà il centro vaccinale dell'ospedale di Sondalo. E ora andiamo a Morvegno dove il premio allo sportivo dell'anno è stato consegnato al ciclista Davide Piganzoli. Una vita per lo sport è invece andato all'ex calciatore di Inter, Parma e Sondrio, Orazio Rancati. Una bella serata di sport che ha messo a confronto due generazioni così diverse, ma entrambe con tante storie da raccontare. Paolo Croce. È stata la Jugoslavia a passare prima al quarto del secondo tempo supplementare per merito del centro avanti Galic. Ma gli azzurri hanno saputo reagire immediatamente. Nello spazio di un minuto hanno riportato il punteggio in parità con un eccellente scambio tra Rancati e Tumorus, concluso da quest'ultimo con un preciso raso terra. Siamo alle Olimpiadi di Roma 1960. Orazio Rancati, da Morvegno, è in campo a fianco di Rivera e Trappattoni. Oggi raccontiamo dunque un grande campione del passato, messo a confronto con un giovane talento del presente, esperienze da ricordare, speranza da coltivare. Tutto questo è racchiuso nei premi lo sportivo dell'anno e una vita per lo sport, riconoscimenti che il Comune di Morvegno assegna dal 2016. Il premio è istituito con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze di Morvegno e nel contempo sensibilizzare, con un esempio positivo, tutte le persone che praticano o si avvicinano allo sport. I premiati, per il 2021, sono stati il giovane ciclista Davide Piganzoli e l'ex calciatore e allenatore Orazio Rancati. È il massimo che potessi pretendere. Sono orgoglioso di essere stato premiato dalla mia città. Lo desideravo proprio. A una certa età, insomma, più passavano gli anni e più paura ho io di non prendere. Questa sera, come ho detto qua, stasera dormirò tranquillo, perché ho ricevuto dalla mia città il premio che modestamente penso che meritasse. Tanti aneddoti questa sera ripercorsi, appunto, per la tua figura. E poi quella famosa foto di Pelè, so che tu ce l'hai a casa. Sì, ce l'ho a casa. Ce l'ho a casa avendo tolto in vernizi, perché mi piace solo io e lui, no? E quella lì è stata una foto. Non è che volessi fare la foto. Per caso stavamo uscendo dal campo e così un giornalista, il giorno dopo mi ha detto guarda che ce l'ho fatto tua di Pelè. Subito corre. Ha fatto la storia. Ha fatto la storia, sì, sì. Rancati è stato il primo morbeniesi a giocare in Serie A nell'Inter. È inoltre vestito la maglia della Nazionale Olimpica a Roma 60, fra i suoi momenti sportivi più belli, le annate con il Parma, dove ha collezionato 96 presenze, segnando 41 gol. Tornato a Sondro, come giocatore e allenatore, conquista una storica promozione in Serie D. Negli anni 90, poi, è prezioso il suo lavoro nelle scuole calcio. I premi sono stati assegnati da una commissione composta da Franco Marchini, assessore allo sport del Comune di Morbenio, giornalisti e rappresentanti delle società sportive morbeniesi. A Davide Piganzoli, il premio sportivo dell'anno, scelto addirittura da Ivan Basso e Alberto Contador per la loro Eulocometa, il morbeniesi è distinto come uno degli under 23 più forti e non solo in Italia. Adesso partirò per il Giro della Val d'Aosta, poi farò un periodo di allenamento sul Sestrier in Altura per preparare bene il Tour dell'Avenir che correrò con la Nazionale Italiana. Allora, tu quest'anno sei stato un grande protagonista, il Giro d'Italia, decimo posto, milore italiano, il campionato italiano a cronometro, insomma, una bella stagione. Te l'aspettavi? Sì, diciamo che quest'anno è iniziato subito bene con un paio di piazzamenti nei dieci, nelle internazionali, poi appunto abbiamo preparato il Giro che è andato bene, mentre è stato inaspettato un pochino la vittoria del campionato italiano, però diciamo che dopo tanti sacrifici si sono un pochino visti i frutti. Arrancati, il consigliere regionale della FIGC, Diego Fattarina, e il delegato provinciale Daniele Croce a loro volta hanno consegnato una targa ricordando i grandi traguardi raggiunti e l'esempio positivo per i giovani. Non a caso, proprio a Coverciano, la casa della FIGC, fa bella mostra la foto della formazione olimpica di Roma 60 che schierava al fianco di Rivera, tra Battoni e Burnic, proprio il nostro Orazio Arrancati. Infine il sindaco Alberto Gavazzi ha ribadito nel corso delle premiazioni la viva città della città di Morbegno in campo sportivo. Ho avuto modo di ricordare quanto è impostata in modo interessante secondo me questa premiazione nel momento in cui si mettono insieme due generazioni generalmente molto differenti ma è proprio bello per questo perché lega con un lasso di tempo significativo quello che è possibile attraverso momenti che ricordano lo sport raccontare un pezzo di città. Si è concluso ieri il progetto Ragazzi on the road. Per il secondo anno alcuni giovani della nostra provincia hanno potuto affiancare tra Sondrio e Chiavenna quegli operatori che ogni giorno dedicano tutta la propria attività alla tutela della sicurezza pubblica. Vediamo. Seconda edizione del progetto Weekend on the road al traguardo e con tante soddisfazioni. Due i comuni interessati da questa iniziativa che punta alla consapevolezza da parte dei giovani della legalità partendo dalla strada e dalla sicurezza che proprio qui trova la sua massima applicazione. Un connubio già rodato quello tra la nostra provincia e l'associazione Ragazzi on the road nata 15 anni fa a Bergamo dopo l'avvio di questa collaborazione che già lo scorso anno aveva prodotto un vasto consenso di pubblico. Il primo luglio scorso la presentazione dell'iniziativa nel palazzo della provincia di Sondrio e così i giovani interpreti di questo progetto hanno potuto interagire con gli agenti della polizia stradale della polizia locale e poi insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del numero unico di emergenza 112 sperimentando in prima persona la laboriosa attività di tanti operatori grazie ai quali possiamo dirci più sicuri. I nove ragazzi on the road hanno così svolto grazie a Croce Rossa Italiana il corso per il defibrillatore semiautomatico ricevendo così la relativa attestazione vivendo inoltre un turno in compagnia del personale medico dell'ospedale di Sondrio a Fraciscio poi nella giornata di ieri l'ultimo giorno del progetto con l'assistenza alla gara del Pizzo Stella Quando uno parte da casa e viaggia sulla strada non sempre recepisce il fatto che incontriamo gente ma possiamo incontrare anche pericoli il progetto che in questo momento è in corso secondo me ha proprio questo significato cercare di coordinare tutte le forze che sono sul territorio per far capire ancora di più al mondo giovani ma non solo cosa può succedere sulla strada e quanto è importante la nostra vita E ora andiamo a Tirano per la seconda serata di Vivi le Notti in Piazza Basilica intertenimenti musicali e singolari iniziative per i più piccoli notevole è l'affluenza di pubblico ce ne parla Gabriela Garbellini Anche Tirano indossa l'abito estivo e apre le danze con serate ricche di intrattenimento e occasioni di socialità positiva grazie a musica cultura declinata in mille versioni arte originale iniziative una serie di variegati eventi in grado di soddisfare gusti ed esigenze di ogni fascia d'età dopo il successo della Notte dei Saldi all'inizio di luglio con un festoso flusso di persone sia nei locali che nelle piazze tiranesi venerdì scorso si è proseguito con il secondo appuntamento di Vivi le Notti e Piazza Basilica location suggestiva e di straordinaria bellezza che anche in questa occasione ha messo in luce le sue innumerevoli potenzialità e fiorita fra suoni e colori sul sagrato del santuario l'apprezzata presenza di un insolito personaggio il palombaro itinerante che ha divertito i presenti ed in particolare i bambini con le sue bolle leggerezza e tanti tanti sorrisi e poi color splash con i bimbi che si sono divertiti un mondo lanciando colori e trasformando il grande lenzuolo bianco in una tavolozza vario pinta per gli adulti ottime specialità culinarie ed esibizioni canorie musicali all'enoteca della valle alla gelateria alla piazza davanti al santuario abili esperti nella preparazione di sfiziosi cocktail ma anche chef nostrani che hanno cucinato con maestria ai grandi padelle fumanti gruppi canorie e cantanti di qualità hanno regalato un susseguirsi di emozioni fra melodie del passato e del presente la rassegna promossa dall'associazione mandamentale di Tirano attiva all'interno dell'unione del commercio del turismo in collaborazione con l'assessorato al turismo del comune di Tirano e il consorzio turistico media valtellina tornerà venerdì 15 luglio lungo via l'italia con musica e stuzzicanti proposte enogastronomiche in bar e ristoranti non mancheranno giochi all'aperto per tutti e baby dance è tutto grazie per essere stati con noi e buona continuazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti